L'educatore vuol dire, per come la intendo io, avere una certa idea di mondo e avere un certo sguardo sulle persone. L'approccio pedagogico fa sì che la lettura della persona sia il più profonda possibile e vada ben oltre quella che può essere una disabilità. Anche perché a me piace molto quando parlo con i ragazzi e le ragazze della squadra curare le parole che scelgo e al tempo stesso analizzarle. Persona con disabilità sottintende che quella persona abbia una disabilità ma non è la sua disabilità. E questo aspetto anche a chi non ha a che fare o per lavoro o nella vita quotidiana con la disabilità è un aspetto che crea grande disagio. Perché il disabile, e lo dico provocatoriamente, è quel tipo di persona che non sai come approcciare. Ne cogli una differenza, spesso è una differenza visibile, palpabile, come può essere proprio la persona in carrozzina, come citavo prima. Ma c'è molto di più. L'idea è che con il percorso di educatore tu possa interfacciarti con queste persone e provare ad andare oltre questa disabilità. E provare a scoprire cosa c'è dentro, che portatori di storie sono questi ragazzi.